Nel video di oggi analizzerò il portafoglio da dividendo di Jeremy, Jeremy lo youtuber di Financial Education, un canale youtube in cui parla di finanza e dei suoi investimenti. Benvenuti su Investire con Gus. La cosa buffa del portafoglio da dividendo che vedremo oggi è che è il suo portafoglio meglio performante. Questo è buffo perché è il portafoglio in cui mette meno lavoro, meno impegno, si limita a cercare società che siano abbastanza buone, abbastanza sottovalutate e che paghino un buon dividendo, non fa chissà che analisi estremamente dettagliate. E nonostante questo è il suo miglior portafoglio. È un po' quello che sta succedendo a me quest'anno con la Gus Formula, col portafoglio Gus Formula, che è il mio portafoglio meglio performante. Il mio portafoglio Gus Formula lo condivido su Patreon, trovate il link in descrizione. E al momento è anche disponibile uno sconto sull'abbonamento. Ma adesso vediamo il portafoglio da dividendi di Jeremy. Questo vale 152.000 dollari e al momento in guadagno di circa il 44%. Una performance non male, considerato che questo portafoglio penso sia nato circa due anni fa. Anzi, pensandoci meglio, se non ricordo male, dovrebbe essere nato poco prima dell'inizio della pandemia. La prima posizione vale il 30,90% del portafoglio ed è Nordstrom. Su questa sta guadagnando il 61%. Il suo acquisto su Nordstrom è stato, a dir poco, perfetto. È riuscito a comprarla ai minimi pandemici, molto probabilmente. Quindi ha ancora un guadagno nonostante l'azione sia crollata in maniera veramente rovinosa. E nel frattempo deve aver ricevuto anche qualche buon dividendo. Nordstrom è un'azione abbastanza interessante. Questa società ha dei centri commerciali e si occupa di vendere vestiti. Hanno anche un e-commerce, come vedete, che hanno sviluppato molto durante il periodo pandemico. Ma la cosa più interessante di Nordstrom probabilmente è la valutazione. Come vedete al momento il price earning forward è 6,49%. Chiaramente qua bisogna fare un po' di attenzione perché bisognerà vedere se le AE del PE, quindi gli earnings, gli utili, saranno in linea con le previsioni degli analisti o se magari saranno deludenti. Però, come vedete, il price earning forward più basso mai toccato è stato intorno a 5,8% durante la grande recessione. Normalmente l'azione sta tra 10 e 15, al momento siamo a 6,5% e quindi la valutazione appare potenzialmente interessante. Per il resto la società non è che mi faccia proprio impazzire, però la valutazione è potenzialmente interessante. Poi la seconda posizione vale il 22% ed è Tapestry. Questa è un'altra società di moda che detiene vari brand anche abbastanza famosi come Couch e su cui sta sta guadagnando il 162%. Anche qua ha un acquisto veramente ottimo. Anche nel caso di Tapestry il price earning forward appare molto vicino ai minimi storici. La valutazione sembra essere molto depressa. E le stime degli analisti sono anche abbastanza buone. Tapestry è un'azione che io ho valutato diverse volte, l'ho guardata con interesse molto spesso, però alla fine non ci ho mai investito. Il mio dubbio su questa società sono i brand perché, ok, sono abbastanza buoni, abbastanza famosi, ma niente di che. Non sono brand particolarmente importanti. Come vediamo, i tre brand che detiene la società sono Coach, Kate Spade e Stuart Waitsman. Non sono quei brand che sopravvivono sempre, che vanno sempre forte. Sono brand che dipendono completamente dal marketing della società, da quanto riescono ad attrare nuovi clienti. Sono quindi brand che potrebbero avere alti e bassi, a differenza ad esempio di una Louis Vuitton. Perciò è una società che non mi fa proprio impazzire. Però i risultati sono abbastanza buoni e la valutazione sembra essere veramente interessante. Poi in terza posizione abbiamo Foot Locker che vale l'11,95% del portafoglio. Su questa sta guadagnando il 14,5%, anche qua è riuscito a prendere posizione durante il crollo pandemico. Per quanto riguarda Foot Locker, se avrete un'analisi abbastanza dettagliata, andate a vedere questo mio video di un paio di mesi fa in cui ne ho parlato. Poi in quarta posizione abbiamo Walgreens Boots Alliance che vale l'11% del portafoglio, circa è anche qua in guadagno del 13%. Questa è una posizione che ho avuto anch'io in portafoglio, ci avevo fatto un video un po' di tempo fa, ma ho chiuso la posizione sul mio portafoglio privato intorno ai 48-50 dollari per azione. Non ricordo con esattezza. Però detengo ancora una piccola posizione su Walgreens nel mio portafoglio di toro. Il bello di Walgreens è che è una società estremamente stabile, è una società che opera farmacie, principalmente negli Stati Uniti, perciò è un business che dovrebbe andar bene anche nel caso in cui l'economia dovesse entrare in recessione. Perciò diciamo che in questo periodo è una posizione che è abbastanza interessante, anche perché nel frattempo si ricevono dei buoni dividendi. La valutazione è storicamente molto bassa, come vedete in passato la valutazione è stata ben più alta dei livelli attuali e sinceramente penso che una società di questo tipo, una società così stabile, soprattutto in un mercato come quello attuale, meriterebbe dei multipli ben più alti di un price earning forward di 8,64. Anche perché recentemente la società ha messo in atto un turnaround che per adesso sta andando a buon fine, hanno ridotto il loro debito in maniera considerevole e perciò penso che meriterebbe un'espansione dei multipli. Poi abbiamo Pfizer, altra società estremamente stabile che vale il 7,5% del portafoglio. Penso che società come Walgreens e Pfizer siano società da dividendo perfette perché sono società molto stabili che dovrebbero fare soldi anche con un'economia debole, perciò dovrebbero garantire una certa stabilità dei dividendi. Quindi per un portafoglio da dividendo sono due società veramente perfette. Poi abbiamo Wynn, per cui non vale il discorso che ho appena fatto perché Wynn è una società che opera hotel e casino, quindi è una società estremamente ciclica che dipende molto dal ciclo economico, della forza dell'economia, quindi non so se sia un'azione adatta a un portafoglio da dividendo, a un portafoglio da buy and hold forever, perché è una società che va incontro a periodi di difficoltà in cui magari si ritrova obbligata, forzata a eliminare il dividendo, su cui si sta sta perdendo il 27% e vale il 7,24% del portafoglio. Personalmente Wynn non mi fa impazzire, la valutazione potrebbe essere abbastanza interessante, però le società cicliche non mi piacciono molto e Wynn ha anche una forte esposizione alla Cina perché ha dei casino, forse un solo casino, non so dirvi con esattezza, a Macau. Recentemente c'erano state delle difficoltà con le licenze per l'operatività in Cina, quindi bisogna stare molto attenti anche a questo, è un rischio che io non voglio correre. Poi abbiamo JP Morgan, questa vale il 3,86% del portafoglio ed è in guadagno del 16,56%. JP Morgan non ha bisogno di presentazioni. Questa è la più importante banca americana e la valutazione non sembra essere neanche chissà quanto male, sembra abbastanza interessante, anche se il book value appare a livelli un pochino alti. A livello di price earning la valutazione è ok, a livello di book value siamo a livelli abbastanza alti rispetto alla media storica. Diciamo che a livelli di minimo soltanto se guardiamo dal 2017 in poi, però se ampliamo il nostro orizzonte temporale vediamo che la valutazione sembra essere piuttosto alta. Personalmente immagino che ormai lo sappiate quasi tutti, io non investo in banche perché reputo siano sostanzialmente impossibili da valutare perché non si sa con precisione cosa abbiano a bilancio. Perciò mi spaventano molto, mi spaventa il fatto che possano fare un po' di porcate e possano avere a bilancio attivi un po' discutibili. Poi abbiamo Qualcomm, questa è una società attiva nel settore dei semiconduttori che vale soltanto il 3,29% del portafoglio, posizione molto piccola, ed è in guadagno dell'88% circa. Peccato abbia costruito una posizione così minuscola perché ha veramente ottenuto un gran gain. Qualcomm è un'azione molto interessante e come vedete la valutazione è ai minimi storici. Probabilmente però il mercato teme la ciclicità del settore dei semiconduttori. Questo è un settore che tende ad essere molto ciclico, soprattutto per certe società come Micron e Qualcomm. Infatti le stime degli analisti non sono sto granché. Per il 2025 si aspettano un forte calo del 17%, non so quanto sensata sia questa previsione, penso molto poco, però probabilmente questo è uno dei motivi per cui il mercato è così spaventato e per cui la valutazione è così bassa. Sto vedendo una cosa che mi sta un po' sconvolgendo. L'azione vale 123 dollari, è previsto un EPS gap di 9,38 nel 2025, quindi il price earning è 1 e qualcosa. Penso ci sia un qualche genere di errore in queste stime di ticker. Adesso facciamo una piccola verifica. Anche su Market Screener c'è lo stesso bug, chiamiamolo così. Mostrano EPS di 10,9 nel 2022, però ai prezzi attuali lo considerano un price earning di 11,3. C'è qualcosa che non quadra, questo è chiaro. Però credo che l'errore sia negli EPS più che nel price earning. Dubito che abbia un price earning forward di 1, qualcosa. Se si vuole investire in Qualcomm questo andrebbe approfondito, magari se qualcuno di voi nei commenti sa perché ci sia questa stranezza lo scriva. Adesso voglio guardare un attimo i risultati del passato con un ampio orizzonte temporale. Come vedete, prima del 2015 i risultati erano veramente forti, la società cresceva tantissimo. Poi c'è stato un totale stallo dal 2015 al 2017, i risultati sono stati in calo. Poi i risultati sono stati in parità sostanzialmente nel 2018. Nel 2019 si è iniziata a vedere un po' di crescita, 2020 sofferenza, meno 3 e poi c'è stato un super boom nel 2021. Questo dimostra come il settore sia altalenante e estremamente difficile da valutare. Il settore dei semiconduttori è probabilmente uno dei settori più complicati da valutare. Recentemente ho provato a fare una valutazione di Micron che sembra piuttosto interessante a livello di valutazione. Però a un certo punto mi sono arreso perché è una società estremamente ciclica, quindi è molto difficile prevedere quali saranno i risultati futuri della società. Se la sto comprando al picco del ciclo o al minimo del ciclo, probabilmente al picco perché negli ultimi anni i semiconduttori non hanno avuto veramente risultati bestiali. Le società di semiconduttori. Quindi ho ammesso la mia incapacità e mi sono ritirato, cosa molto importante. Se vi accorgete di avere difficoltà nella valutazione di una società, ritiratevi. Fate come dice Warren Buffett, restate nel vostro circolo di competenza, restate nelle azioni, nelle società che siete in grado di capire. Non andate a infangarvi, infognarvi in società che non siete in grado di analizzare. Abbiate l'umiltà di ammettere incapacità in certe situazioni. Non è una vergogna, non è un male. È giusto saperlo ammettere perché ci sono migliaia, milioni di azioni, non lo so, ce ne sono tantissime. Perché infognarsi con azioni che non siamo in grado di valutare? Stesso discorso che faccio con le banche. Fate molta attenzione a questo, non siate presuntuosi, non abbiate la presunzione di pensare di poter valutare qualsiasi società molto bene. Dovete essere capaci di ammettere le vostre mancanze, le vostre limitazioni. Poi in ultima posizione abbiamo Target. Questa deve essere una posizione recente perché recentemente Target è crollata veramente molto e vale l'1,68% del portafoglio. Questa a mio avviso è una posizione sostanzialmente inutile. Come avevo detto già nell'altro video, nel video sul portafoglio pubblico, non capisco il senso di costruire posizioni così minuscole e inutili sostanzialmente. Su Target per il momento sta guadagnando il 6,6%. Questa è una società molto stabile, opera supermercati, megastore, non vendono soltanto cibarie ma vendono un po' di tutto negli Stati Uniti. Penso siano attivi soltanto negli Stati Uniti. I risultati negli scorsi anni sono stati molto buoni. Durante il periodo pandemico hanno avuto veramente una fortissima crescita. Anche l'utile è cresciuto parecchio rispetto al 2017, quindi ottimi risultati. Quindi la valutazione, adesso diamo un'occhiata, come vedete subito il price earning è sceso parecchio ultimamente. Però siamo comunque nella parte alta del range storico. Come vedete in passato il price earning è stato tra 10 e 15. Al momento stiamo a 15,16% e stiamo guardando price earning forward, scusate. Perciò in realtà la valutazione sembra abbastanza alta, però questa è una società molto stabile, anche se potrebbe soffrire in questo periodo a causa inflazione. Perché dovranno scegliere se sacrificare un po' di ricavi o se sacrificare i margini, e quindi prendersi i costi in pancia senza riadevitarli ai clienti. Per il prossimo anno, che è l'anno fiscale 2023, gli analisti si aspettano un forte calo di utile EPS, del 40% circa. Però si aspettano che la società vada a recuperare tutto nel 2024. Perciò se guardiamo ai risultati che la società dovrebbe ottenere nel 2024, la valutazione diventa un pochino più interessante, perché il price earning forward dovrebbe essere intorno a 11,5%, utilizzando i risultati previsti per l'anno fiscale 2024. Quindi la valutazione non è neanche così male. E anche guardando alla previsione all'anno fiscale 2027, la società sembra abbastanza interessante, perché applicando un price earning di 15 all'EPS previsto di 18, la valutazione potrebbe raggiungere 270 dollari, e al momento vale 142. Ovviamente questa non è una valutazione che vale qualcosa, è semplicemente per farmi un'idea di dove potrebbe essere l'azione. E non prendete niente di quello che ho detto in questo video come un consiglio di investimento, sono soltanto mie considerazioni sul portafoglio di Jeremy. Perciò questo portafoglio non è per niente male, non mi dispiace, le società presenti sembrano essere a valutazione piuttosto interessanti, sono sicuramente società che sono state punite dal mercato ultimamente, che hanno raggiunto valutazioni piuttosto interessanti. Per il momento ha tutte le posizioni in guadagno, tranne Will Resorts, perciò non si può dire molto di negativo su questo portafoglio. L'unica cosa, come dicevo prima, è il position sizing, magari posizioni dell'1,6% hanno poco senso, e sinceramente non le costruirei, soprattutto su società così stabili e affermate. Nel caso di Target non parliamo di una società piccolina e super speculativa, non parliamo di una società affermata, dominante e estremamente grossa, nonché estremamente stabile, quindi non vedo perché costruire una posizione così piccolina. Forse l'ho fatto perché si aspettava ulteriori crolli per costruire la posizione con calma. Ultima cosa da dire, questo portafoglio è estremamente piccolo, per genere mi conta poco e niente, è il portafoglio più piccolo che ha. E aggiungerei purtroppo perché è il suo portafoglio meglio performante. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo portafoglio, lasciate un commento e ovviamente ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e condividere il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti!